E' venuto sempre in noi, perché se l'angelo io trovo il tuo aspetto, il tuo aspetto... Andrea Bocelli canta dal balcone virtuale di Instagram con Chiara Ferragni e Fedez per l'ospedale di Camerino, zona del centro Italia colpita dal terremoto del 2016 che da alcuni giorni è stato trasformato in un Covid Hospital. Fare il bene è l'unico mestiere che ci rende degni di essere qui, pigionanti del mondo, ha detto Bocelli, ognuno, secondo il proprio talento, secondo quello che è e quello che ha, può fare sempre e comunque la differenza. Oggi più che mai ascoltiamo la nostra coscienza, rimbocchiamoci le maniche e facciamo quello per cui siamo stati creati. Fare il bene del prossimo si può declinare in migliaia di modi, ma resta, per tutti, il prioritario mestiere. Siamo fratelli, ma siamo anche colleghi. Bocelli ha invitato tutti a unire le forze, a stringersi attorno al paese affinché presto si possa tornare ad abbracciarsi realmente. A questo invito hanno risposto immediatamente Chiara Ferragni e Fedez, la coppia benefica più importante di Instagram che ha messo a disposizione i propri canali social per supportare la raccolta. Una diretta che ha visto incollati allo schermo oltre 200.000 utenti live, ma in crescita di ora in ora, e che sta contribuendo a raccogliere fondi sulla piattaforma GoFundMe.com. Obiettivo della raccolta raggiungere 100.000 euro per acquistare respiratori polmonari e materiale di protezione individuale per l'ospedale di Camerino. Presente al live anche Matteo Bocelli, volontario dell'ABF e figlio di Andrea, che ormai da tempo ha intrapreso anche lui la carriera di cantante. Un minuto di silenzio è per voi che possa arrivarvi il nostro abbraccio simbolico. Simbolico Grazie a tutti.